Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video tutorial. Oggi parleremo della tecnologia Z-Push che in abbinamento con Zimbra consente la sincronizzazione dei nostri contatti e della nostra agenda direttamente su tutti gli smartphone presenti in commercio. E' chiaro che in questo caso sullo smartphone andremo a settare la sincronizzazione delle mail tramite IMAP e contatti ed agenda tramite il protocollo Exchange in abbinamento con Z-Push che viene installato sullo stesso server dove è installato Zimbra, chiaramente facendo riferimento anche all'utilizzo di Apache. Quindi Apache è una porta differente da quella di Zimbra e Z-Push, come ho detto precedentemente, che è una tecnologia molto legata alla concorrenza, al Zarafa, però come avete visto noi andiamo direttamente al sodo e cerchiamo soluzioni per l'abbattimento dei costi IT. Questa tecnologia chiaramente non deve essere considerata al posto di Zextras, ma deve essere solo e soltanto un proof of concept perché soprattutto in un ambiente di produzione io prediligo assolutamente la sicurezza e la tranquillità di Zextras che ci consente di fare backup in modo intelligente, andando addirittura a recuperare una sola email, più che una sola email, un solo account relativo a una persona e ci consente anche di fare sincronizzazione di posta elettronica, contatti e agenda, senza preoccuparci minimamente degli aggiornamenti, perché comunque i ragazzi di Zextras lavorano e ogni volta che c'è un'anomalia in Zimbra, ogni volta che c'è un aggiornamento disponibile in Zimbra, loro accorrono ad aggiornare anche il software Zextras. Buona visione! Bene, iniziamo quindi con la configurazione. In particolare ricordiamo che faremo riferimento all'articolo scritto sul blog di Andrea Balboni. Quindi iniziamo. Per prima cosa dobbiamo connetterci in SSH alla porta 22 al nostro server Zimbra, nel nostro caso un server Zimbra di demo all'indirizzo 192.168.036, con una sola utenza con la quale poi successivamente andremo ad effettuare il test con dei dispositivi mobili. Quindi 192.168.036 e andiamo a loggarci con le credenziali di root. A questo punto, nel nostro caso specifico, andremo ad installare Zpush sullo stesso server dove è installato Zimbra. Quindi, poiché Zpush è in realtà un server web con un certificato SSL che sfrutta la porta 443, noi andremo a modificare la porta HTTPS di Zimbra da 443 a un'altra porta, nel nostro caso la 8889. Quindi, loggiamoci come utente su Zimbra, lanciamo il comando Zmeprov e andiamo con lo stesso comando a modificare la porta. Quindi, ms, il nome dal server, che nel nostro caso è zimbra.beable.local e andiamo a modificare il parametro Zimbra mail port e Zimbra mail SSL port. Quindi, dopo aver riavviato il server, verificheremo che l'accesso a Zimbra non sarà più in HTTPS alla porta 443 predefinita, ma alla porta 8889. Attendiamo l'esecuzione del comando, usciamo e riavviamo. Quindi, andiamo a verificare che il server si è riavviato e che accediamo alla porta 8889 in HTTPS all'utenza test password. Attendiamo quindi il login nell'utenza stessa per essere certi al 100% del reindirizzamento della porta. Ok, a questo punto dovremmo riloggarci con il putti, sempre allo stesso indirizzo 36 e da questo punto andiamo ad iniziare l'installazione del web server. Quindi, andiamo ad installare l'HTTPD, successivamente proseguiremo con il PHP ed altri moduli SSL utili per la configurazione di Zpush. attendiamo il download dei pacchetti e la loro installazione. ecco qui, stanno installando i 5 pacchetti. ecco qui, procediamo con il PHP. Mentre installiamo questi moduli, andiamo a ripercorrere i passi che effettueremo. Quindi, dopo aver effettuato il cambio porte di Zimbra, stiamo installando il web server, successivamente andiamo a creare un certificato auto firmato SSL, andremo a configurare il server web per essere reindirizzato verso la zona del Zpush, andremo ad installare e configurare Zpush, nonché ad installare e configurare anche il backend di Zimbra per Zpush. e poi, infine, andremo a testare il corretto funzionamento, andando prima a definire anche la rotazione dei log dello Zpush, quindi affinché possiamo effettivamente verificare eventuali errori mediante l'utilizzo del log. Continuiamo con l'installazione degli ultimi pacchetti, nonché andiamo successivamente ad avviare il servizio HTTPD e ad abilitarlo di default all'avvio del sistema. Procediamo con il passo successivo, quindi la creazione del certificato auto firmato. Con questo comando andiamo proprio a creare il certificato vero e proprio. Quindi andiamo a definire il country name, it, la provincia Bari, la città Molfetta, l'azienda Beable, ripetiamo Beable, possiamo inserire l'hostname, inseriamo zimbra.beable.local, successivamente un'indirizzo email di riferimento e la password, nel nostro caso molto molto semplice ed infine, con il comando successivo, andiamo a verificare il certificato appena creato. Andiamo a copiare tutti i certificati appena creati nelle corrispondenti cartelle e passiamo alla sezione successiva, la configurazione del server verso la zona zpush. Quindi in particolare andiamo a creare la cartella var.vv.html.zpush, andiamo a creare la cartella del log, quindi var.log.zpush e andiamo a modificare il file httpd.conf Posizioniamoci alla fine del file e andiamo ad aggiungere questi parametri. Allora, che cosa facciamo? Andiamo ad associare Sistemiamo prima la formattazione perché in fase di esecuzione potrebbe creare problemi in quanto magari non riconosciuta quindi abbiamo creato un alias alla porta 443 alla voce Microsoft Server ActiveSync collegato al file var.vv.html.zpush.index.php L'unica variabile da modificare è il server name inseriamo zimbra.beable.local ossia l'hostname zimbra.beable.local Verifichiamo che sia questo Dopo aver modificato il file procediamo con la configurazione e l'installazione dello zpush Posizioniamoci nella cartella tmp e andiamo a scaricare lo stesso Molto veloce andiamo a decomprimerlo e posizioniamoci nella cartella zpush 2.0.8-1731 quindi la cartella del software appena scaricato andiamo a copiare tutto il contenuto nella cartella var.vv.html.zpush precedentemente creata e andiamo a creare delle nuove sottocartelle che poi utilizzerà zpush quindi la cartella mail la cartella zimbra la cartella back-end zimbra e andiamo infine a configurare il file che si trova in var.vv.html zpush il config.php in questo file facciamo una ricerca ed andiamo a definire il parametro state dir di default è impostato su var.lib.zpush ma noi ne abbiamo precedentemente creato una differente cartella e se ricordate bene abbiamo creato la cartella var.vv.html.zpush che è la directory principale e in particolare abbiamo creato la cartella state quindi la directory sarà questa stessa ed andiamo a verificare questi parametri del file log in realtà esiste la cartella var.vv.ztpush allo stesso modo i file zpush.log e zpush.error.log che andremo successivamente a verificare per cui non ci resta che salvare il file stesso ultima modifica e posizionarsi nel file zpush.php nella directory var.vv.html zpush.lib.core ed andare a settare la data date timezone la dobbiamo impostare anziché Amsterdam Roma anche quest'ultima modifica è stata effettuata adesso non ci resta che procedere con il download del backend di Zimbra per zpush quindi andiamo a scaricare il pacchetto andiamo a decomprimerlo scusate andiamo adesso a decomprimerlo posizioniamoci nella cartella Zimbra 56.1 nella cartella Zpush 2 e a questo punto andiamo a copiare il tutto e spostarlo nella cartella var.vv.html.zpush backend Zimbra andiamo successivamente ad associare i corretti permessi a queste due sottodirectori quindi var.vv.html.zpush e var.log.zpush ancora permessi 775 e infine andiamo a modificare il file config.php qui andiamo a ricercare la voce Zimbra eccola qui e qui dobbiamo prestare un po' di attenzione in particolare andiamo a definire l'url di Zimbra quindi https 2 punti slash slash, l'Http del nostro server, quindi del nostro server Zimbra, 192 168 036 alla porta 8 8 8 9 9, quindi ricontrolliamo, 192 168 036 alla porta 8 8 9, lasciamo invariati gli altri parametri, andiamo ad eliminare il commento alla definizione della timezone di Zimbra inserendo Roma, ad allineare correttamente questo parametro, ed infine a impostare su true, il parametro Zimbra debug, quindi ricontrolliamo, siamo andati a definire l'url di Zimbra con la porta, quindi nel nostro caso 8889, abbiamo decomentato il parametro Zimbra timezone, nonché abbiamo definito il parametro Zimbra debug. A questo punto dobbiamo copiare questa zona, andiamo quindi a salvare il file con le modifiche, abbiamo copiato l'impostazione dal back-end di Zimbra e dobbiamo andarlo ad inserirlo nel file var www.html.zpush.config.php posizioniamoci nella zona back-end, verifichiamo che in questa zona è presente la configurazione di Zarafa, noi invece andremo a definire quella di Zimbra, quindi lasciamo qualche spazio, andiamo a copiare i parametri dal file precedente, nonché a inserire in alto il file, il parametro scusate, back-end provider. Ok. Ecco qui, andiamo a ordinare il tutto, ci sembrerà più chiaro, e a rinominare back-end Zimbra. Abbiamo inserito nel file config.php la configurazione di Zimbra. Ricontrolliamo il tutto e andiamo a salvare. A questo punto definiamo l'impostazione della rotazione dei log dello Zpush, andando a modificare il file etc.log.rotate.zpush e andiamo ad inserire i parametri corretti, nonché a salvare il file. Adesso non ci resta che riavviare e incrociare le dita. Dopo il riavvio del server non ci resta che accedere all'indirizzo IP di Zimbra slash Microsoft Server ActiveSync e verificare che ci vengano richieste delle credenziali di autenticazione. Per cui adesso procediamo con i test da smartphone o tablet o qualsiasi dispositivo mobile. Eccoci collegati sull'Android, posizioniamoci in impostazioni account e sincronizzazione e andiamo ad aggiungere un nuovo account di tipo aziendale o exchange. A questo punto andiamo ad inserire l'indirizzo email, nel nostro caso test-bable.local, nel nostro caso sarà il vostro indirizzo email con la password di Zimbra. Ovviamente nel nostro caso è oscurata. Stiamo facendo riferimento ad un tablet Android, ma la configurazione è pressocchi uguale anche per un iPhone. Nella schermata successiva andiamo a sostituire la voce server con l'indirizzo IP di Zimbra, quindi nel nostro caso 192.168.0.36. Andiamo ad abilitare tutti i certificati SSL e clicchiamo su avanti. Ovviamente abbiamo scelto SSL perché il server è installato alla porta, il server ZPush è installato alla porta 443. Andiamo avanti con le impostazioni di default, inseriamo l'indirizzo email, nel nostro caso test-bable.local ed andiamo avanti. Andiamo in particolare a disabilitare la sincronizzazione delle email perché nel caso di ZPush queste verranno sincronizzate semplicemente con il collegamento IMAP e non sfruttando l'account exchange appena creato. Quindi andiamo avanti e testiamo effettivamente il calendario, apriamo la stessa applicazione e verifichiamo la sincronizzazione degli appuntamenti. Quindi gli appuntamenti sono stati sincronizzati, non ci resta che effettuare un test, quindi creare un nuovo appuntamento ad esempio di test, nonché verificare che questo venga sincronizzato in Zimbra. Quindi inseriamo come nome ad esempio test, test 2 e andiamo a salvare l'appuntamento. L'appuntamento è stato creato, andiamo su Zimbra a verificare. Colleghiamoci all'utenza test e andiamo a verificare che nell'agenda sia stato aggiunto l'appuntamento test 2. Allo stesso modo facciamo un test inverso, aggiungiamo l'appuntamento registrazione video dalle 14.30 alle 15.30 e andiamo a verificare sullo smartphone che lo stesso sia presente. Posizioniamoci sul calendario del tablet e verifichiamo la sincronizzazione avvenuta. Posizioniamoci quindi nei contatti e andiamo ad aggiungere un nuovo contatto. Ovviamente scegliamo l'account aziendale test.bable.local appena configurato e andiamo a creare un nuovo account, un nuovo contatto di test. Per la sincronizzazione poi andremo a collegarci a Zimbra e verificheremo che questo contatto test sia presente su Zimbra. Allo stesso modo il test inverso è già stato effettuato in quanto abbiamo visto la presenza di un contatto b-ebole-srl che è stato creato su Zimbra ed è stato quindi sincronizzato sul tablet. Abbiamo salvato il contatto test e andiamo su Zimbra per verificarne la sincronizzazione. Accediamo nuovamente all'utenza di Zimbra, posizioniamoci nei contatti e andiamo a verificare la presenza del nuovo contatto creato dal tablet. Quindi in conclusione abbiamo visto come collegare un server Zpush a Zimbra e abbiamo testato la sincronizzazione con un tablet Android, fermo restando che la configurazione è pressoché la stessa anche per un iPhone o un dispositivo, un tablet, Apple o un qualsiasi altro dispositivo basta scegliere come sincronizzazione quella come account exchange. Arrivederci e al prossimo video tutorial. Grazie a tutti.